I carabinieri del nucleo investigativo del comando di Forlì hanno arrestato, con l'ipotesi d'accusa di rapina aggravata e porto abusivo d'arma da fuoco, tre pendolari della rapina in banca, ritenuti gli autori di due colpi messi a segno rispettivamente il 28 maggio e il 6 ottobre 2010 nella medesima filiale forlivese della Banca Popolare Emilia-Romagna, che furtarono complessivamente circa 9.000 euro in contanti. Si tratta di tre pregiudicati laziali, Daniele Masi, 32 anni, attualmente già in carcere per una rapina commessa a Vellettri, Claudio Patanè, 36 anni, agli arresti domiciliari a Pomezia e Massimiliano Ferroni, 41 anni, in carcere a Livorno per tentato omicidio nei confronti di un carabiniere a seguito di un movimentato arresto dopo una rapina commessa a Capalbio, nel Grossetano. I tre malviventi, secondo quanto riferito dai carabinieri, hanno commesso l'errore di non valutare bene le zone di copertura delle telecamere del sistema di videosorveglianza della Banca Forlivese. Gli investigatori hanno così avuto a disposizione i fotogrammi che mostravano Ferroni e Masi indossare guanti a passamontagna pochi attimi prima di entrare in azione, armi in pugno, durante la prima rapina del 28 maggio. Nonostante i guanti, Ferroni inoltre lasciò sul posto anche un'impronta digitale. La seconda rapina vede in azione Masi con Patanè, quest'ultimo già noto alla Banca Dati dell'Arma, per una rapina commessa nel 2007 a Ravenna. Tutti elementi che, oltre alle testimonianze delle vittime delle due rapine, hanno permesso di individuare il terzetto.